Ciao, salve a tutti, ecco il candito che propongo io alle mie api in questo periodo è l'opercolo, come vedete bello impregnato di miele che adesso andrò a proporlo alle api gli darò un 3-400 grammi per uno a tutte le colonie più ovviamente gli darò anche del miele, come vedete un po' a tutte sono sempre Luca, allevatore, selezionatore, produttore, flore locali apicoltura, apematta questo è il candito che propongo io alle mie api in questo periodo dell'anno con le ultime smelature, l'opercolo, tutto l'opercolo anche il recupero dalla vasca di disopercolo lo do tutto, tutte le api e si parla di diversi chili questi sono 3 chili per il momento ma poi ce ne sono degli altri adesso procedo non posso mostrarvi le immagini in apiario perché in questo momento si possono rischiare saccheggi purtroppo spero di poterlo fare poi in seguito più avanti, quando loro saranno un po' più tranquilli che sarà un po' più freddo come è stato per stagione scorsa tanto passerò ancora a nutrimento in questo senso questo è il nutrimento opportuno per le api un saluto a tutti grazie a tutti